Salve a tutti, sono Pino Chiodo, sono il direttore tecnico del Festival del Cinema di Roma dalla prima edizione. La mia azienda è Pino Chiodo Cinema Engineering, si occupa di progettazioni e realizzazione di sistemi di proiezione audio e soluzioni acustiche per le sale cinematografiche. Per quanto riguarda il Festival abbiamo adattato acusticamente le sale nate per la musica classica all'esigenza dell'audio cinematografico, installando ovviamente sistemi di pannelli acustici e di tende motorizzate per ottenere i tempi di reverberazione giusti per quanto riguarda le colonne sonore cinematografiche. Il sistema audio è stato scelto in base alle caratteristiche tecniche delle sale utilizzando prodotti GBL. Per quanto riguarda le proiezioni sono stati installati ogni sala sia i tradizionali sistemi in pellicola 35 mm sia i sistemi in digitale e di cinema con risoluzione ovviamente 2K e 4K con tecnologia e barco cinema e meccanica delle quali la nostra azienda è partner. Già nelle precedenti edizioni le proiezioni digitali hanno superato come numero le proiezioni in pellicola 35 mm raggiungendo una percentuale dell'80% dei film presentati in quest'ultima edizione. L'avvento del digitale ha portato grandi vantaggi all'intera catena dell'industria cinematografica facciamo qualche esempio nella produzione e la realizzazione del film non girando più in pellicola ma con sistemi digitali i registi possono verificare in tempo reale la qualità tecnica e artistica delle scene senza aspettare i tempi di sviluppo della pellicola. Per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti in digitale che può avvenire con due modalità tramite hard disk o via satellite mandando ovviamente in pensione il classico Mino che consegnava e ritirava le tradizionali pizze con il frugone. Ovviamente l'avvento del digitale ha facilitato la gestione delle sale cinematografiche permettendo le automazioni delle funzioni tecniche più importanti nelle cabine di proiezioni nonché la gestione centralizzata della programmazione dei film. A trarre maggior vantaggio dal passaggio epocale, dalla proiezione in pellicola a quella del digitale e ovviamente il pubblico che può apprezzare una qualità audio e video che rimane costante anche dopo un numero limitato di proiezioni a differenza della pellicola che dopo tante proiezioni subisce un'usura tale da pregiudicare la qualità dell'immagine e del suono.